Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Fabio Aquilini non ci sta alle critiche ricevute dai suoi elettori e più in generale dai cittadini dopo che in un'intervista rilasciata la settimana scorsa a Jab TV aveva annunciato che in caso di un nuovo ballottaggio avrebbe sostenuto il candidato sindaco di centro-sinistra Pierezio Ghezzi. Proprio per questo il leader dell'Italia del rispetto attraverso le nostre telecamere ha voluto leggere pubblicamente lo statuto del movimento. Il movimento civico l'Italia del rispetto è un movimento di natura apartitica. È un movimento che non si riconosce in nessuna ideologia preconcetta né di destra né di centro né di sinistra. Il movimento è aperto alla collaborazione con le parti politiche esistenti solo sulla base di singoli idee o progetti che riterrà validi per il bene collettivo. Continuo a vedere sul web dei giudizi nei miei confronti, nei confronti del movimento e non solo, quindi anche nella gente che ha fermato alcuni iscritti e appartenenti alla lista dove si dice che in sei mesi noi abbiamo cambiato tutto il sistema costituzionale della politica vogherese per queste scelte qua. E di conseguenza volevo ribadire questo concetto. L'Italia del rispetto continuerà dunque a correre con le proprie gambe mantenendo fede a quanto scritto nel proprio statuto. Ma in caso di nuove elezioni Aquilini esprime perplessità su un'eventuale nuova candidatura e fa appello ai cittadini affinché sostengano il movimento. Noi siamo partiti con questa intenzione, sono stati due anni molto difficili perché ripeto senza nessuna economia e senza nessun partito nazionale alle spalle costruire una lista è stato molto difficile, nonostante gli articoli giornalisti e tutti i giornalisti che ci hanno dato una mano, nonostante tutte le petizioni per creare un contatto con la gente. È ovvio che se le future elezioni non abbiamo un aiuto da parte del cittadino che viene e si iscrive alla lista e segue quello che è il nostro obiettivo non so che cosa posso fare, non è che posso andare a partecipare da solo. In questi due anni abbiamo sempre fatto dei volantinaggi dove la frase finale era aiutateci a costruire la lista. Ma ipotizzando un'analisi sulle intenzioni di voto dei cittadini di Voghiera che risultati otterrebbe l'Italia del rispetto? Mi sembra di vedere che la politica viene fatta all'interno dei partiti e la gente che è contraria ai partiti piuttosto che venire nell'Italia del rispetto e quindi creare un movimento di opposizione preferisce non andare a votare. Quindi ho la paura che il numero dei votanti non sia aumentato. È già una fortuna se rimane uguale.